agosto a g o s t o ciao ragazzi grazie di essere qui con me oggi benvenuti in un nuovo video di chiacchiere 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 come vedete dal mio viso c'è caldo tutta sudata vabbè però adoro lo sfondo qui dietro le luci le patate le adoro e adoro tanto anche lo sfondo bianco e adoro tanto anche lo sfondo bianco non so perché in realtà piace molto di più dello sfondo nero personalmente se se è appunto non troppo luminoso oggi sono tornata con questo microfono dopo tanto tanto tempo e con anche un tipo peloso e oggi sarà un video super semplice di chiacchiere di aggiornamenti prima sul canale il mio computer sta facendo molto casino sta mezzo morendo non so che ultimamente ha veramente tanti tanti problemi io sono preoccupata e subirete anche la ventola fate finta che sia un vento fresco fresco che vi investe fresco freschissimo volare gelido e niente a parte questo appunto aggiornamenti sul canale aggiornamenti poi su di me dopo nel caso se ci sarà tempo allora comincio appunto con l'aggiornamento più importante quello che un po' mi riguarda di più sul canale ed è riguardante il mese di agosto A G O S D O il mese di agosto il mese estivo per eccellenza il mese di vacanze per eccellenza e vacanze uguale meno youtube meno tempo su tutti i social meno tempo soprattutto su youtube e meno giga meno giga e questo vuol dire anche per me è meno tempo di visualizzazioni meno visualizzazioni tutto quanto agosto è un mese di vacanza anche per me e adesso abbiamo abbiamo il video vi dirò anche dove andrò e sono contentissima e chi mi segue già dall'anno scorso saprà o forse si ricorderà o da due anni tre anni chi è ad agosto sempre ha fatto una pausa o almeno o almeno ho sempre arrendato il ritmo cioè fatto un video a settimana al posto di due video a settimana come sono solita fare infatti carico video ogni lunedì e venerdì alle 19 e 30 non scordate però in tantissimi voi ve lo chiedete ogni volta ed è sempre scritto giù in descrizione ok e quest'anno volevo fare un po' diverso non volevo lasciare il video con solo un video il canale con solo un video a settimana ma ho pensato di fare dei video più semplici e più corti ma di farli uscire appunto due volte a settimana come come al solito non so mi sembra un po' più carino anche per chi starà a casa perché il video metterà il wifi vorrà comunque vedere i video anche se io ho più di 400 400 video sul canale e penso che non li abbiate visti tutti no 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 però capisco che i nuovi contenuti sono sempre più allettanti quindi non mi voglio lasciare senza contenuti però appunto ci saranno video più semplici e più corti sono assolutamente sicura che qualcuno nei commenti vi avrà a dire che chiamo ma perché ultimamente i miei video sono così corti io dirò l'avevo detto se non ascolti it's not my fault faccio un po' la beauty blocker mezzo inglese a parte gli scherzi il caldo mi sta un po' facendo provore in testa questa è la prima cosa quindi ad agosto usciranno i soldi 8 9 video non so quanti insomma comunque 2 settimane se per noi vi avviarvi alle 19.30 ma saranno più corti più semplici altra cosa riguardante il canale appunto visto che ci sono le vacanze imminenti vi caricherò direi che se riesco lo posso oggi lo finisco domani vi caricherò dei brani su spotify oggi è lunedì comunque per venerdì quando lo starete guardando questo video massimo per lunedì saranno dovrebbero essere online dei nuovi brani su spotify saranno proprio gli ultimi ultimi video che ho caricato questo in realtà perché ho perso la chiavetta mi contenevo tutti gli altri miei video e quindi ho solo quelli recenti con la chiavetta nuova vabbè sorvoliamo mi piace questo trigger mi piace questo trigger ok per essere aggiornati su tutti i video che usciranno se ci sono un ritardo nel video o in generale per scegliere i video che usciranno per darmi delle idee su nuovi video seguitemi su instagram mi trovate come chiara punto sml tutti gli altri sono falsi vabbè sono sicura ci fosse un'altra cosa bene il canale è abbastanza certa ah si niente un'altra questa è una chiacchiera sul canale diciamo così avrei voluto fare tanto questo video con il tasca che per me è il microfono ore per i sussuoli e basta purtroppo penso che il mio tasca non va mi ha dei problemi sento un fruscio di sottofondo fortissimo 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 e quindi ho deciso che appena riuscirò probabilmente a settembre 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 comprerò il suo fratellino di più alta qualità che c'è il Tascam DR40 che mi piace tantissimo e che non mi trovi di avere nella mia collezione di microfoni ormai altro microfono che secondo me si è abbastanza rotto cioè almeno non va da una parte che è RSR3D ovvero il microfono con le orecchie le orecchie quello bianco anche questo penso abbia un problema un microfono di un orecchio purtroppo ripararlo basta praticamente come la metà del microfono stesso quindi penso che anche lì prima o poi ne comprerò uno nuovo non penso di quella marca perché tutto sommato trovo ci siano microfoni migliori allo stesso prezzo e mi dispiace magari proverò ad usarlo un'altra volta per vedere se migliora qualcosa non so però insomma è previsto anche l'acquisto di un altro microfono ancora sperando vivamente che il mio computer non mi lasci a piedi sennò dovremmo rimandare l'acquisto di tutti questi microfoni purtroppo ok chiacchiere sul canale finite qui ho una cosa che non vi ho mai fatto vedere ed è la scatola con molti dei miei trigger molti dei miei oggetti di scena o la collana blu la zombella i due gelatini o mascherina da medico o un mascara un oggetto che prima o poi userò cioè è finta si chiama tralash volevo vendere a chi lavo un po' in realtà dei miei progetti per la rimanenza dell'estate volevo fare un po' di suoni dite che questo ci convince volevo fare il gelatino però potremmo provare questo suono proviamolo un po' lontano nel microfono sembra tipo scotch non lo so non lo so spero vi piaccia non mi convince però ditemi se vi convince e farò un bene con questo oggi volevo fare un po' di suoni col gelatino perché era da tanto che non lo utilizzavo e mi mancava da adoro adoro col doppio gelatino sapete che ho il doppio gelatino copico comunque io quest'estate ho fatto un po' di cose sono abbastanza soddisfatta diciamo che mi sono premiata abbastanza per l'amore e adesso farò un altro viaggio grosso dico super perché sono emozionatissima sono la mia prima volta in un altro quasi niente ancora dal mio video sulla Namibia molto insomma appunto io sono andata in Africa appunto è stato il mio primo continente visitato al di fuori dell'Europa e ho sempre sentito che sarebbe stato quello alla fine perché non lo so mi ha sempre mi ha sempre intratto più di tutti l'Africa è sempre avuto qualcosa in più è sempre l'ora penso come per alcuni in Asia come per alcuni in America come per alcuni in Europa e l'Oceania che basta appunto abbiamo optato per un'altra meta che in realtà adesso sta cominciando ad essere abbastanza comune il mio computer fra un po' prende fuoco poverino lo sentite? ciao è abbastanza avventurosa chi è? la Malesia sono sono stracarica ma non faremo il solito viaggio della Malesia almeno in parte si diciamo che andremo al mare come tutti alle Perenzian non vedo l'ora non vado al mare veramente non al mare di regione da tantissimo tempo tipo da 3 anni da quando sono andata in Sicilia e mi manca un po' comunque restare in spiaggia a vedere un mare veramente bello e non vedrò di essere sotto le palme di cocco oh oh è mostratissimo non so se potete capirlo probabilmente si e e poi faremo il porneo il porneo porneo nel porneo nel porneo nel porneo nel porneo adesso c'è casino stupido cane nel porneo cioè nella giungla faremo anche due gite al mare ma sono troppo 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 carica mi dispiace che non avremo per vedere nei tempi nei niente proprio la parte più asiatica più spirituale tutto quanto non la faremo faremo molto la parte naturale e che è la cosa che però ci ispira di più in questo in questo periodo quando ho detto al mio ragazzo che voleva andare in Males se ne metto ok però facciamo poverne ho detto va bene questo e niente sono troppo carica partiamo il primo di agosto e torniamo il diciotto e faremo anche la scala Dubai mi dispiace perché facciamo lo scalo grosso di 10 euro Dubai all'andata non me la sento riuscire però poi Dubai penso ci andrò anche solo 3 giorni sì tipo il weekendino per Dubai ok direi che il caldo mi sta decisamente non dalla testa quindi penso che per voi e per me sia giunta l'ora di di abbassare le luci e augurarvi una buona 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 buona, 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 buona notte soñedoro soñedoro buona notte soñedoro good night sweet dreams buona notte buona notte tu se sveglia buon nuit buon nuit good night good night buona notte pasticcini un bacione che li supera tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Grazie a tutti.